Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare. Immunopirina. A cosa serve? Immunopirina ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per i denti e la salute orale. È commercializzato in Italia dall'azienda DMG Italia SRL, sede legale. Informazioni commerciali. Titolare. DMG Italia SRL, sede legale. Concessionario. DMG Italia SRL, sede legale. Categoria di appartenenza. Integratori per i denti e la salute orale. Forma farmaceutica. Liquido uso orale. Confezioni. Immunopirina liquido 150 ml più 6,5 g. Indicazioni. Nei casi di ridotto apporto dietetico o di aumentato fa bisogno delle sostanze presenti in immunopirina a marchio registrato. Modalità ad uso. Ricomposizione del prodotto. Tagliare la bustina lungo il tratteggio. Aprire il flacone e versare il contenuto della bustina all'interno del flacone, facendo attenzione a non far fuoriuscire il contenuto della bustina. Richiudere il flacone con il tappo e agitare energicamente. Utilizzo del prodotto. Agitare energicamente prima di ogni riutilizzo. Somministrare la quantità consigliata in base al peso o secondo diverso consiglio medico. Il prodotto ricostituito, conservato in frigorifero, a validità 15 giorni. Conservare in frigorifero, 4 A gradi, dopo ogni utilizzo. Dosaggi consigliati per peso, in chilogrammi. Peso dose singola dose giornaliera. Da 10 chilogrammi 2,5 ml fino a 4 volte. Da 20 chilogrammi 5 ml fino a 4 volte. Da 30 chilogrammi 7,5 ml fino a 4 volte. Sopra i 40 chilogrammi 10 ml fino a 4 volte. Descrizione e caratteristiche. La febbre ha l'aumento della temperatura corporeal di sopra dei 37 A gradi, se misurata per via ascellare o inguinale, o superiore ai 37,5 A gradi, se misurata per via rettale o orale. La febbre ha un segnale che l'euroorganismo sta cercando di controllare fenomeni anomali, solitamente di natura infettiva o infiammatoria. Rappresenta quindi un segno e non una malattia. Dato che la febbre rappresenta una difesa naturale dell'euroorganismo, la euroassunzione di veri e propri farmaci antipiretici andrebbe riservata in caso di febbre elevata, 38 A gradi, o in presenza di indicazioni specifiche da parte del medico. Tuttavia, sostanze naturali, efficaci sulla regolazione della sudorazione e sulla funzionalità delle mucose respiratorie, possono essere di utilità anche nelle fasi iniziali dei fenomeni febbrili, per supportare le necessità dell'organismo. Immunopirina ha marchio registrato a un integratore alimentare di vitamina C, vitamine del gruppo B e di vitamina D3, che contiene estratti di sambuco e di camomilla e da ricco di beta-glucani. Tali sostanze svolgono importanti azioni fisiologiche nell'organismo, in particolare il succo dei frutti di sambuco regola il processo di sudorazione, aumenta la fluidità delle secrezioni bronchiali e migliora la funzionalità delle prime vie respiratorie. Rafforza le naturali difese dell'organismo. L'estratto di camomilla, fiori, regola il processo di sudorazione, migliora la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio e facilita il rilassamento, sonno. Le vitamine B6, B12, C e D contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Le vitamine B5, B6, B12 e C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. I beta-glucani del lievito sono micronutrienti estrati dal saccarumice socerevisiae. Avvertenze. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata di un corretto stile di vita. Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso no-pia componenti. Non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera. Richiudere bene il flacone dopo la euro uso. Conservare lontano da fonti di calore. Il prodotto non ricomposto è correttamente conservato, a validità 30 mesi. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Per l'uso del prodotto nei bambini al di sotto dei 3 anni, si consiglia di sentire il parere del medico. Ingredienti. Acqua depurata, fruttosio, camomilla, matricaria camomilla L, fiori, estratto, beta, glucani del lievito, saccarumice socerevisiae, glicerina, vitamina C, acido ascorbico, correttore di acidità. Sodio idrossido. Conservanti. Sodio benzoato, potassio assorbato. Vitamina D3, colecalciferolo, vitamina B5, calcio pantotenato, vitamina B6, piridossina cloridrato, vitamina B12, cianocobalamina, aroma. Ingredienti bustina. Succolio filizzato di sambuco, sambucus nigra L, frutti. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.